buongiorno 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 a questo giorno caffettino voi l'avete già preso mezzogiorno avete anche pranzato però però rimane descritto no in tanti ma la roma ma quando parli della dea ma la lazio il verona quando ci sono troppe partite in contemporanea è impossibile è impossibile e quindi ne scelgo una ne vedo una e poi magari il giorno dopo come appunto accade oggi andiamo a parlare di tutte le altre partite anche perché ce ne ce ne stanno di cose interessante da dire da snocciolare vi divido il tutto anche in capitoli e sotto in descrizione trovate i vari i vari minutaggi quindi andate cliccateci e vi andate a vedere la partita vi andate a vedere il mio il mio pensiero sulla partita che vi interessa non ve ne interessa nessuno buona giornata ci vediamo magari domani chi lo sa pazienza prima però di partire ragazzi iscrivetevi al secondo canale tre uomini un pallone in compagnia anche di prince dello zoccolo duro perché sempre live sempre live anche stasera alle 23 dove ci sarò anche io ovviamente il live quindi secondo canale sempre lì in descrizione c'è il link passati ci iscrivetevi e lì si e lì si fanno le live no mi chiedete sempre ma quando fai la prossima stasera però non la faccio qui sul mio canale la faccio sul secondo pesciotti devi iscrivere è un grande un grande piacere detto ciò iniziamo perché già di chiacchiere ne abbiamo fatte troppo finisco il caffettino prontissimo prontissimo atalanta sassuolo è finita 5 a 1 ragazzi prima di questa sfida uno pensava e diceva ma volete andare a vedere che il sassuolo riesce anche a battere a battere l'atalanta lo diceva per esempio zoccolino in una live fatta l'altro giorno io invece ovviamente no perché conosco conosco un pochettino la dea la dea si sta anche evolvendo si sta anche evolvendo ragazzi perché laddove ha perso un giocatore tecnico e di qualità incommensurabile come è il papu che sa bailare con la palla ha comunque guadagnato altre caratteristiche per esempio in chi in pessina che ragazzi ieri ha fatto piovere e nevicare anzi visto che è stata una gara non una gara una una giornata molto piovosa ha fatto anche diluviare ecco persia fa diluviare diciamo così fa diluviare bellissimo il suo il suo gol ma l'assist di ilicic perché poi a me ragazzi a me piacciono sempre lo sapete mi piace mi piace mi piace sempre la magia mi piace sempre il prestigio mi piacciono sempre le giocate e quelle e quelle di pura esaltazione le trovo sempre in ilicic che fa un assist bellissimo e e pessina che la chiude bene bebe bel gol ma è stato un atalanta dirompente dopo magari un avvio del sassuolo anche anche buono deciso no con l'occasione con muldur dopo dopo il gol dell'atalanta è scesa la pioggia ecco per ritornare al discorso diluvio è scesa la pioggia c'è stato il diluvio e il sassuolo si si è si è completamente allagato ecco ecco è andata è andata proprio proprio così il sassuolo poi l'atalanta per il sassuolo no il sassuolo per l'atalanta no l'atalanta per il sassuolo e la bestia nera ce la fai nesco perché sono un po in tilt comunque bestia nera anche se non sbaglio proprio la scorsa stagione parti bene il sassuolo e poi ancora una volta una caterva di gol cioè ormai è quasi consuetudine ma d'altronde quando hai un assetto collaudato quando hai giocatori importanti ragazzi c'è zapata al di là dei gol vedevo anche l'assist di testa su su sul gol che poi da 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 quella progressione a go sense ci sono tanti giocatori che si completano a vicenda poi per l'ennesima volta ai muriel che questo qua ogni volta che entra e oro che cola io non so credo che muriel abbia la media gol più alta in europa non lo so mi voglio documentare perché secondo me se andiamo a fare veramente se andiamo a fare il rapporto dei minuti giocati con i gol realizzati ma ma questo segna segna raffica gli basta un minuto l'ho già detto lo ribadisco quanto quanto tempo mi dai gas mi dai un minuto vabbè me lo faccio basta per fai gol è così che ragiona muriel pazzesco è pazzesco e poi ripeto gol di go sense un atalanta che c'è un atalanta che convince ripeto pessina pessina sta entrando ne sta entrando proprio appieno adesso nei meccanismi e sta aggiungendo qualcosa mentre con gomez ovviamente perde qualcosa pessina comunque ti dà altro questo gasp lo sa e sta funzionando l'atalanta l'atalanta ragazzi in linea l'atalanta in linea parte parte sempre un po così in sordine poi ragazzi arriva la seconda parte della stagione quindi l'atalanta ci sarà l'atalanta ci sarà fino alla fine per il quarto posto io mi sento di dirvi questo ci sarà fino alla fine per per il quarto posto sassuolo mamma mia sto andando troppo all'elenza sento qua ci facciamo mezz'ora di video no devo devo accorciare sassuolo forse mancava giuricic c'è stato un mezzo battibecco con con de zerbi sicuramente quindi magari mancava il collante giuricic è fondamentale sicuramente tutto quello che vuoi però ragazzi miei travolta travolta dall'atalanta ma sassuolo ragazzi sta andando anche oltre ogni più rose aspettativa andiamo avanti perché sennò si fa notte fiorentina bologna sostanzialmente qua cosa c'è da dire ecco fiorentina bologna mi viene in mente all'immagine dei due anzianotti che comunque ci regalano sempre calcio scampoli di calcio vero scampoli di 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 cioè mi riportano mi riportano a tempi d'oro tempi antichi tempi orsono sto parlando dell'assist di riberi bello e calibrato per il tiro da fuori aria di di borca valero bellissima bellissima azione i due vecchietti che comunque in quel frangente in quella occasione sfiorano sfiorano il gol del del vantaggio a dire vero riberi ottima chance anche nel primo tempo dove salta l'uomo con facilità e poi da posizione defilatissima becca il palo detto questo qualche occasione anche da parte del del bologna ma c'è sempre il muro drongoschi e che comunque quando ci deve mettere la pezza drongoschi c'è sempre messo la manone non mi ricordo su su palazio ecco c'è pezzella che fa nana nasciva fa una roba una roba funesta ne approfitta palazio ma come al solito c'è c'è drongoschi partita sostanzialmente equilibrata mi sento di dire che è un punto che va anche bene a tutte e due le squadre perché poi fiorentina allunga la sua striscia la sua striscia positiva bologna che onestamente ultimamente non sta facendo bene se non sbaglio nelle precedenti cinque solo tre pareggi questo è l'ennesimo ti porti a casa un altro un altro pari che sa di agrodolce diciamo diciamo così però bologna è una squadra l'ho già definita in passato una squadra un po pazzerella cioè che che passa dal giocare bene a giocare male in un in un secondo cioè magari stanno sono assopiti per 5 per 60 70 minuti poi fanno ottimo calcio magari per 20 minuti e ti ti inventano delle robe importanti come spesso dice proprio l'allenatore mia e comunque da registrare questo 0 a 0 genoa lazio 1 a 1 ecco il laziale non possono essere soddisfatti di portare a casa un punto contro il genoa e non me lo vogliono assolutamente i genoani che con ballardini forse hanno trovato il solito salvagente vedremo fatto sa che la lazio passa in vantaggio su su un rigore che assolutamente forse c'è stata anche qualche polemica ma mi sento di dire giustissimo perché zapata veramente sovrasta cioè si scaglia no sopra si scaglia addosso a milinkovic che gli aveva preso bene il tempo gli mette mano sopra cifrana addosso col corpo ragazzi magari se fosse stato direttamente in aria cioè era in aria per carità però l'arbitro l'ha percepita come fuori aria magari se era in aria l'arbitro poteva anche andare andare liscio perché certe volte telefischiano certe volte però al di là di ogni psicologia pensata e stabilita quello è il rigore cioè di frenare addosso e buonanotte ai suonatori immobile come al solito non sbaglia dal dal dischetto e poi la realtà è che la lazio la lazio doveva chiuderla la partita la lazio ha avuto un'occasione loro sempre con immobile su una bellissima azione palla perfetta sognante sognante la palla di milinkovic è palla bellissima bella 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 non c'è non c'è nulla da aggiungere ma anche lo stop e il controllo quindi a seguire di immobile niente male la palla che non va dentro poi se non sbaglio nel finale anche che i sedo un'altra occasione qualche occasione c'è stata da parte della lazio ma in soldoni mi viene da dire che non puoi non puoi comunque lasciarti scappare una vittoria con un genoa che si innalza che si scuote grazie a shomudorov shomudor si pronuncia così è un po' difficile per me questo nome ma ma è anche difficile marcarlo a quanto pare perché fa una giocata bellissima sulleva tatà in due secondi anzi in due millisecondi si libera del centrocampista e serve deliziosamente destro che ancora una volta va in gol e poi l'altra giocata di shomudorov perché poi attenzione poteva essere una beffa ulteriore il genoa poteva addirittura da vincerla con un'altra giocata deliziosa bellissima davvero pregevole nel finale si libera non ricordo adesso di quale difensore e conclude all'angolino sul secondo palo basso e non c'entra la porta ma che giocatore ragazzi questo shomudorov mamma mia è delizioso ho visto quella magia che solitamente vedo in profili come lui salberto ecco me l'ha fatta vedere lui quella magia ieri bella 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 giocatorino bello 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 bravo 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 fatto sta finisce 1 a 1 parma torino 0 a 3 ragazzi ragazzi il torino torino l'ho detto lo ribadisco e lo ribadirò il torino si salva il torino si salverà perché è una squadra che è troppo al di sopra di quella che il valore della rosa è troppo al di sopra di quello che è poi la classifica cioè il torino veramente non io non lo so come possa trovarsi in quella situazione come ci si sia proprio messa in quella situazione io non lo so e non riesco veramente a spiegarmelo anche perché quando hai belotti ancora una volta ragazzi bisogna partire da lui l'ho fatto ieri il discorso con la juventus magari nei momenti di difficoltà quando ti serve la giocata del campione c'è Ronaldo al torino c'è belotti cioè belotti ragazzi belotti ogni volta ogni volta è sempre migliore in campo ma tu vuoi dire vuoi premiare anche Izzo come giusto che sia perché Izzo poi è un giocatore che non aveva avuto molto spazio adesso invece sembra essere quel valore aggiunto altro gol e quindi vuoi anche dire che Izzo è l'uomo della rinascita ma non puoi dirlo perché c'è belotti cioè non puoi dirlo perché belotti secondo me deve stare sempre al centro di ogni attenzione per quello che dà per quello che dà non si è mai scomposto non si è mai incrinato dinanzi alle difficoltà questo carissimo Gallo e ragazzi ha fatto delle robe bestiali ti ha dato una palla a Verdi ma prima di dargli quella palla che poi tra l'altro si devore il gol avete visto come sei andato con forza con vigoria avete visto un po' come sei liberato dal giocatore l'assist cioè il gol Belotti cioè quando si parla del Torino il Torino ha un toro ed è Belotti cioè non si discute poi anche Sirigo che tra l'altro c'erano stati dei problemi lì a livello ambientale compagnia bella Sirigo si è ripreso si è ripreso il posto diciamo ottima prestazione la sua mica male dall'altro lato mi viene da dire ragazzi il Parma sarò sempre scontato sarò sempre banale ma lo devo dire lo devo dire ma come cazzo ha fatto a esonerare da Versa ma cosa si sono fumati per esonerare da Versa me lo devono spiegare perché io non lo trovo concepibile mi devono spiegare cosa si sono fumati sicuramente qualcosa è tagliato male ma di tagliato male perché non puoi cioè da Versa da Versa ragazzi faceva le cose che doveva fa ma non me ne voglio liberare ma ragazzi il Parma se continuo così se ne scende il Parma se ne scende perché perché se ne scende se ne scende ragazzi io veramente non lo so non lo so andiamo avanti Roma Samp Doria ragazzi la Roma è terza ragazzi la Roma è terza la Roma con le medio piccole non sbaglia praticamente mai non sbaglia un colpo non sbaglia nulla non sbaglia nulla e poi i punti i punti quelli veri si fanno contro le squadre medio piccole e direi ma se non vinci le grandi non batti le grandi magari non puoi non puoi puntare a vincere non vincerai ma se batti quasi tutti le medio piccole sei in Champions e credo che l'obiettivo della Roma francamente sia quello e se continua così non gliela può scippare nessuno questo piazzamento Champions non glielo può togliere nessuno ragazzi ha trovato un avversario ostico duro sotto veramente un un diluvio un diluvio era sceso il diluvio universale eppure eppure sforzi non sforzi la Roma l'ha giocata prima o poi il gol il gol prima o poi te lo fa anche perché c'è della qualità lì davanti c'è Mkhitaryan che come al solito traccia geometrie indescrivibili perché poi c'è Karsdorp che trova l'ennesimo assist perché c'è Dzeko il più pericoloso ieri che ha avuto tante occasioni non a caso perché Dzeko essendo molto fisicato diciamo così quindi possente presente in aria quando trovi una squadra chiusissima perché la Samp ragazzi una squadra l'ho sempre detto io quando parlo di Ranieri e quando parlo della Samp devo parlare di una squadra ordinata loro fanno le cose le fanno con ordine quando c'è da difendere si mettono anche tutti lì dietro stanno dietro e si mettono con ordine allora tu lì devi trovare ti devi appoggiare anche a un giocatore forte fisicamente strutturato tecnico ovviamente come Dzeko e Dzeko ha avuto le sue occasioni e poi ha fatto un gol bellissimo gol bello quello di Dzeko tocco delizioso palla lì palla là dove non la puoi prendere e mi spaventa sta cosa mi spaventa perché noi quanto ho capito perdiamo Lukaku contro la Samp ragazzi l'Inter secondo me sono squadre che si chiudono come la Samp e non hai Lukaku che comunque ti offre presenza lì speriamo bene speriamo bene perché un pochettino cioè non la snobbo una vittoria con la Samp non la si snobba gli si dà tanto valore e diamo tanto valore a questa Roma che continua a marciare c'è qualche piccola defezione ripeto quando devi affrontare magari una big però la Roma il più delle volte non sbaglia contro le medio piccole non sbaglia anzi mai contro le medio piccole e ripeto Kasdor Dzeko questi qua questi qua vanno menzionati Mkhitaryan mica 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 male Sampdoria è tutta nel destro di Candreva che ha provato diciamo il gol da ex laziale la cannonata bravo anche Paolo perché se non la devi a quella scende quella palla e va dentro se non la devi a Paolo quella scende e va dentro della Giovan poi per il resto tanta tanta e dico tanta 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 Roma e concludiamo con Spezia Verona Zaccagni Zaccagni il gol il gol della giornata praticamente il gol della giornata lo realizza Zaccagni perché perché dico il gol della giornata perché lì oltre il gesto tecnico di rara bellezza tutta l'azione tutta l'azione del Verona tutta l'azione lo sviluppo lo sviluppo prima della conclusione lo sviluppo ragazzi Tamese appoggia dietro per veloceo che con il solito piedino magico vellutato cerca e trova sempre di prima Faraoni che ancora a sua volta di prima in becca Zaccagni che fa quello che ha fatto ragazzi l'azione e la conclusione bellissima cioè tutta l'azione bellissima bel gol bel gol il Verona il Verona ragazzi il Verona ragazzi gioca bene gioca bene è strutturato bene e niente veramente l'anno scorso potevi pensare che c'era qualche giocatore più di qualità quindi dicevi e pensavi quest'anno quest'anno crolla invece no invece no perché perché prima dei giocatori viene la struttura viene la struttura viene la mentalità che è stata acquisita che è stata trasmessa da Juric ecco se c'è una squadra se c'è una squadra in cui la mano dell'allenatore è chiara è palese lampante e la squadra se c'è una squadra è il Verona di Juric ecco questo mi sento mi sento di dire e niente lo Spezia che poteva e doveva approfittare di quell'occasione avuta con Zola di quell'erroraccio là non mi ricordo come si chiama il giocatore del Verona come si chiama che poi tra l'altro Magnani si è fatto saltare perché è stato preso contro tempo Magnani non è male è stato preso contro tempo e quindi Zola poteva però cioè col Verona non è facile con Verona che ti martella ti sbudella non è non è mai facile ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate dai cadate e se vi va iscrivetevi al canale un grande abbraccio da me iscrivi iscrivetevi al canale